Ben trovati, buona domenica, oggi in versione Mimmo Amerelli, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like al termine di questo contenuto. Appuntamento sentitissimo questa sera alle 20.45 a San Siro, Inter-Juve, credo che questa partita non la si debba nemmeno analizzare, un significato profondissimo, specialmente dopo l'estate del 2006. Non credo che sarà un match decisivo ai fini dello scudetto, perché mancano tantissime partite, però va fatta una doppia fotografia. In caso di successo dell'Inter, considerando come debbano recuperare una partita i Nerazzurri, che se dovessero vincere, sommata a un'eventuale vittoria sulla Juve di questa sera, porterebbe a una sorta di mini-fuga. Invece, in caso di risultato utile della Juve, per quanto riguarda la vittoria, non sto neanche a parlarne, anche un pareggio terrebbe i giochi aperti. Però, della probabile formazione ne parliamo più tardi. Rimaniamo su Adrienne Rabiot, perché quanto vi ho raccontato ieri, credo che abbracci totalmente la realtà. A di là del fatto che a me non risulta che nella testa di Rabiot ci sia l'ipotesi di andare all'Inter. Poi, è chiaro che evidentemente i Nerazzurri a caccia di parametri zero, probabilmente avranno sondato anche questa pista. Ma mi sorprenderebbe se qualcuno non lo facesse, perché è un po' il giochino che facciamo noi quando utilizziamo Football Manager o giochi simili. Se parliamo di svincolati di lusso, guardiamo la lista e Rabiot in questa lista è uno dei nomi più apicali. Quindi io credo che sia doverosissimo che tutti i club più quotati al mondo possano tentare di ingolosire Adrienne in termini di proposte a parametro zero. Poi però c'è la realtà dei fatti. La stessa che vi dice, e io condivido questo messaggio che mi è arrivato nuovamente ieri sera, che o Rabiot resta in Italia alla Juventus, oppure per lui si apriranno le porte dell'estero. Quindi l'opzione Inter non è presa in considerazione minimamente dal diretto interessato. Vogliamo aggiungere che stasera si giochi questa partita e che magari qualcuno abbia tentato di destabilizzare l'ambiente? Ci può stare, sono dinamiche del mercato. Vi ricordo che i bianconeri hanno fatto saltare l'accordo verbale tra Thiago Jalò e l'Inter, anticipando le mosse Nerazzurri e puntando sull'immediatezza del trasferimento. Quindi sono dinamiche normalissime all'interno del mercato. Però, questo è. Ora, io non do per scontato che la Juventus riuscirà a trovare un'intesa con Rabiot. Sebbene ci stia lavorando, vi posso garantire che alla continassa credono nella bontà della propria strategia, anche sfruttando il fatto che Adrienne qui si trovi in una sorta di comfort zone, molto legato all'ambiente, alla società, ai compagni, eccetera, eccetera. Ovvio, dobbiamo rispettare i tempi di Adrienne, che è uno che si è preso davvero tutti i mesi a disposizione, per esempio nelle puntate precedenti affinché poi arrivasse il suo UI, alla proposta di rinnovo annuale della Juve. Bisogna fare bene i conti, perché la prossima, sì, l'offerta che farà la Juve sarà extra decreto crescita, quindi se metti sul piatto, ipotizzo, cifra a caso, 7 milioni netti, complessivamente il calciatore a Teclab costa circa 14 milioni d'ordi. Quindi i conti vanno fatti bene, però Adrienne è ancora un giocatore del piano di maturità professionale, è cresciuto in termini di leadership, qua si trova molto bene, comunque, piaccia o non piaccia, è sempre decisivo, e quando manca lui si sente, specialmente per come è costruita questa Juventus, è normale che fino alla fine la Juve cercherà di rinnovare il contratto, ma ve lo ribadisco, i rapporti con la mamma gente, vero Nick, sono ottimi, quindi vedremo, non bisogna forzare, ma è sicuramente una forzatura accostarlo all'Inter, perché mi sento di escludere che questa ipotesi di mercato possa andare in porto, in Italia, o Juve o niente, fine. Ieri mi ha colpito un'intervista rilasciata da Giovanni Ken, mio fratello di Moise a Tutto Sport, in cui ha spiegato un po' il retroscena, ma che già conoscevamo, e di cui avevamo già ampiamente parlato, del mancato passaggio all'Atletico Madrid. Giovanni Ken ha detto, l'Atletico ha fatto degli esami approfonditi, che hanno evidenziato tempi di recupero più lunghi di circa tre settimane, se avesse giocato con l'attuale infiammazione, avrebbe rischiato di aggravare la situazione, mettendo a repentaglio anche ogni possibilità di andare agli europei. Qui voglio fare una precisazione, perché non si può far passare minimamente il messaggio che la Juventus abbia tentato di fare la furba. Lo dice la realtà dei fatti, lo dice la storia recente. La Juve, quando si accorta, che questa infiammazione fosse piuttosto antipatica, per prima ha scelto di non far giocare Ken, di evitare che si potesse incappare in brutte sorprese, tanto che nelle ultime partite del 2023 non ha giocato. E quindi la Juve è stata la prima a voler tutelare la salute come giusto e doveroso che fosse di Moise. Non è che la Juve ha mandato Moise a Madrid così al buio e cercando di fare quello che, in maniera piuttosto grezza, in gergo mercataro, si può etichettare come pacco. La Juve non vuole fare un pacco all'atletico. La Juve è informato step by step l'atletico su quali fossero i tempi di recupero, a detta dello staff medico bianconero di Moise. Poi uno staff può avere una visione a breve termine, altri, come ha spiegato Giovanni Ken, possono ritenere che ci voglia un po' più di tempo, ma ciò non toglie, nella maniera più assoluta, che la Juventus per prima abbia preservato la salute di Ken cercando la via maestra. Poi era nata questa ipotesi, questa opportunità, proprio per fare in modo che magari con maggiore minutaggio Moise potesse essere convocato. E io lo spero ancora, perché comunque Moise si deve rivelare a tutti gli effetti un valore aggiunto, se sarà chiamato in causa, e lo sarà, in questa seconda parte di stagione. E' ovvio che l'evoluzione della Juve porta a pensare che i titolari siano altri, su Blauj non si discute, e neanche poi su quello che sarà il ballottaggio eterno da qua al termine della stagione, ovvero quello tra il Diz e Chiesa. Questo è, questo è, perché ho letto delle cose che non mi sono piaciute, ma l'intervista di Giovanni Kenner, Tutto Sport, credo che poi supporti le nostre tesi. Clima buono, ieri sono stato in zona Continassa fino al tardo pomeriggio, quindi fino alla partenza dallo stesso centro del Pullman Juventino direzione Milano, dove ieri sera sono arrivati i bianconeri per classica cena, ritiro e preparare i miei modi mentalmente questa gara. Ovvio che c'è una letta consapevolezza che questa sia una gara importante, ribadisco, non decisiva, ma che potrebbe consolidare un esame di crescita. Ecco, non sottovalutiamo questo aspetto, perché oggi non dovranno tremare le gambe, è chiaro, gli oltre 70.000 di San Siro, quelli che saranno di fede nella azzurra, faranno sentire tutta la loro passione per i propri beniamini e tutto il loro disprezzo calcistico nei confronti alla tifoseria bianconera. Prepariamoci perché la famosa battutina del guardia e ladri di Allegri immagino che non passerà inosservata questa sera, ma fa parte di Inter-Juve, che è il derby d'Italia, che è una partita sentitissima da entrambe le parti, con la Juve chiamata a fare risultato per cercare di alimentare un sogno, consolidare una speranza.